musica Vittorio mi ripeti ne parli tu o ne parlo io dell'appuntamento di domenica? quante domenica? ora domenica ora domenica 15 questa domenica il 15 dicembre 2019 no domenica 2019 ma cosa devo dire non ho capito devi dire quella cosa di Luigi Capuano ah quella cosa che ci sono degli attori in piazza che fanno spettacolo degli attori ma anche noi ah vero anche noi anche noi parla ne tu no parla ne tu perchè ogni volta se parlo sempre io dici che parlo sempre io parla un po' tu ma parla ne tu perchè io non ero preparata non parli tu e devi dire quella cosa di Luigi Capuana che è uno spettacolo di Luigi Capuana ah che per bambini, grandi, piccoli, noi devi dire tu io non dico niente sto qua per una volta non dici e poi sono io sempre quello che dice tutto lo so però è un po' comino bambino ho capito ho capito lo dico io oh vi aspettiamo tutti quanti questa domenica giorno 15 alla come si chiama? eh piazza San Vito ah piazza San Vito perchè perchè noi noi reciteremo giusto? ah ci sei pure tu? eh certo c'è pure lui no? ah vero perchè facciamo senza orecchie eh certo non avrei detto niente facciamo senza orecchie ecco di Luigi Capuana attori per strada va bene allora lo dico io ci vediamo domenica 15 dicembre 2019 in piazza San Vito per una bellissima storia di Luigi Capuana da Tori per strada con Riccardo e Margherita si Riccardo e Margherita vabbè ciao ciao